Buongiorno a Gianni Pittella, il nostro ospite di oggi, già vicepresidente del Parlamento europeo, considerato uno dei principali esponenti del pensiero progressista europeo e che noi di The Watcher Post abbiamo l'onore di annoverare tra i nostri editorialisti. Benvenuto. Grazie, buongiorno, sono io molto felice di collaborare ad una testata così importante, anche così competente sulle materie come The Watcher Post. Tra le materie di cui ci occupiamo ci sono proprio gli affari europei, le dinamiche politiche europee, soprattutto in questo periodo in cui si stanno preparando un po' gli equilibri per la prossima tornata elettorale nel 2024. A proposito di questo, l'occasione di questa intervista è la realizzazione di questo pamflet che insieme ad altri studiosi avete realizzato in vista proprio del prossimo appuntamento elettorale. Di che cosa si tratta? Proprio con The Watcher Post e con Formicai abbiamo pensato di predisporre uno strumento di lavoro ad un anno dall'elezione europea, uno strumento di lavoro che è diviso in tre sezioni. La prima sezione è cosa è avvenuto in questi cinque anni, quattro anni, in una legislatura tumultuosa come poche nella storia europea. La seconda sezione è ciò che può ancora avvenire, perché siamo ad un anno dalle elezioni europee e la terza sezione è quali sono le sfide, quale sarà l'Europa che verrà fuori dall'elezione europea e quell'Europa quali sfide dovrà affrontare. Tre sezioni di lavoro che potranno offrire l'occasione per un dibattito e un confronto serio di cui finora c'è poca traccia e non soltanto in Italia. E di cui abbiamo senz'altro bisogno. Assolutamente sì. E partiamo, entriamo nel merito, partiamo proprio dal primo punto, e cioè cosa è successo in Europa in questi ultimi cinque anni, anche perché sono stati anni che hanno segnato in maniera radicale la storia del nostro continente e dell'Unione Europea in particolare. citiamo alcuni fatti, partendo dalla Brexit, il Covid, la guerra in Ucraina, la prima guerra d'invasione in Europa dopo tanti anni. Com'è cambiata l'Europa in questi ultimi anni? Ma sicuramente ha subito dei colpi formidabili. Brexit è la separazione da noi in attesa, perché avevamo sottovalutato l'effetto della propaganda populista. Purtroppo invece si è realizzata. Fare a meno del Regno Unito è una menomazione. Peggio ancora per il Regno Unito, fare a meno dell'Unione Europea. Il Covid ha segnato una tragedia, una tragedia umana, sanitaria, ha trovato l'Europa impreparata e deve ancora aprirci gli occhi rispetto alla necessità di sostenere la sanità, la sanità soprattutto quella pubblica e la sanità territoriale, quella preventiva. La terza questione è la guerra. Chi si aspettava che nel 2022 scoppiasse la guerra? Io penso che nessuno avrebbe previsto, poteva prevedere una cosa del genere. Il cuore dell'Europa ancora continua e rischia di diventare una guerra a bassa intensità. E poi accanto a questo ci sono altri fattori. La risposta dell'Unione Europea al Covid è stata l'emissione di debito comune, cosa che non è mai avvenuta, una cosa rivoluzionaria. Ma c'è voluto il Covid? C'è voluta la tragedia, la recessione. E poi, come succede spesso in Europa, si fanno le belle cose e poi ci si ferma. Ora abbiamo questo grande strumento che è il Next Generation EU, da cui scaturisce il PNRR italiano e gli altri piani nazionali, ma non si fa il passo in avanti. Non si rende strutturale questo progetto e questo piano europeo. E poi ci sono stati cambiamenti nazionali. Non dimentichiamo che oltre a quello che è avvenuto nel Regno Unito, c'è quello che è avvenuto in Francia, dove sono scomparsi quasi socialisti. C'è quello che è avvenuto in Italia, dove ci sono state nella scorsa legislatura tre governi partendo dal Conde I, dal Conde II, da Draghi e adesso c'è la Meloni a capo del governo e anche in Germania ci sono delle rivoluzioni politiche. La fine dell'era Merkel. Insomma, anche a livello politico, di questo volevamo parlare, sono stati citati proprio tre dei più fondamentali cambiamenti, la fine dell'era socialista in Francia, fine dell'era Merkel e la commissione a guida von der Leyen, la presidenza Sassoli, che comunque è stata, se non altro, è ricordata per alcuni importanti passaggi politici, processi politici che sono stati introdotti in quel periodo. Insomma, un bel cambiamento rispetto al periodo in cui Gianni Pittella era vicepresidente del Parlamento europeo. Dal punto di vista politico, quindi, che Europa ritroviamo a cinque anni di distanza? La Van der Leyen sicuramente è una leader che costruisce una maggioranza larga facendo la scelta giusta, che era l'unica possibilità che aveva poi, e sulla base di quella maggioranza larga e con l'appoggio forte, autorevole e importante di Sassoli, perché la presenza di Sassoli va valutata anche nella capacità di influenza delle altre istituzioni europee. Davide Sassoli non è stato soltanto un grande presidente del Parlamento europeo, che ci ha lasciato con una grande sofferenza e tristezza di tutti, personalmente immensa, ma è stato anche un presidente che ha fatto valere l'influenza del Parlamento su Commissione europea e sul Consiglio europeo. Qual è l'Europa che viene oggi, che arriva oggi? È un'Europa, come al solito, ha due facce. La faccia del Next Generation EU, cioè l'Europa che reagisce alle avversità e che fa anche scelte coraggiose, quella degli Eurobond, chiamiamoli per il nome che hanno, e quella invece della scarsa audacia, come quella che propone una revisione di patto di stabilità che non è all'altezza delle ambizioni e delle sfide. Lo dice Gianni Pittella, lo dice Mario Draghi in un articolo editoriale sull'Economist. Come abbiamo detto poco fa, il PNRR ha rotto un tabù che sembrava impossibile da infrangere, cioè l'emissione di debito comune europeo. In queste settimane si ricomincia a parlare di rapporto deficit-PIL. Quanto questo dibattito influirà sulla prossima competizione elettorale e soprattutto su quello che sarà il confronto interno alle grandi famiglie politiche europee? Io temo che questo dibattito dovrà essere anticipato, perché la riforma del patto di stabilità, credo, precederà l'elezione europea del 2024. Io penso per le cose che stanno dicendo il commissario Gentiloni, e gli altri commissari, che a fine anno si arriva ad una intesa sulla riforma del patto di stabilità, anche perché altrimenti scade. E dunque, io penso che noi dobbiamo fare una grande iniziativa politica, che il governo italiano deve fare una politica di alleanze nell'Unione Europea, con altri Stati che sono interessati, affinché non si faccia soltanto una sorta di alleggerimento dei periodi necessari per l'aggiustamento rispetto ai parametri del deficit e del debito, perché questo si fa nella proposta di riforma, cioè si rende meno rigoroso e stringente il tempo per raggiungere quei parametri. Ma questo non basta, occorre introdurre la Golden Rule, cioè l'esenzione al calco del patto di stabilità dei parametri delle spese di investimento. Il New Deal, come lo finanziamo? Dentro ai parametri o fuori ai parametri? Il Next Generation EU, come lo finanziamo? Dentro o fuori ai parametri? Il programma per rendere competitive le nostre imprese rispetto alle imprese americane, e gli Stati Uniti hanno varato delle misure che hanno inondato di soldi il sistema imprenditoriale, ma come la concorrenza, come la reggeranno le nostre imprese se non ci sarà uno strumento europeo per queste cose? Tutto il tema del digital divide, del programma digitale, come se lo si affronta? E tutte le politiche giovanili, tutte queste cose, devono andare dentro o fuori il calco del patto di stabilità. E la capacità di bilancio deve essere introdotta, cioè la possibilità di finanziare con debito comune i programmi di investimento, sì o no, questi sono i veri nodi su cui si deve costruire un'alleanza. Da questo punto di vista, dai passi in avanti, io non li ho visti. E insisto perché si vada in questa direzione facendo politica di alleanza con chi ci sta su questo fronte, seguendo l'indicazione che ha data Mario Draghi. Sul piano politico-legislativo, questi ultimi anni sono stati un periodo in cui alcuni grandi temi sono balzati in cima all'agenda politica, penso alla sostenibilità, alla salute e al digitale, soprattutto in conseguenza del Covid. In questo contesto, come si può rendere il ruolo del Parlamento europeo ancora più centrale nelle politiche europee? Questo è uno dei temi della campagna elettorale. Le forze politiche si devono esprimere dicendo chiaramente se vogliono che il Parlamento europeo sia la Camera legislativa dell'Unione europea e cioè che il voto del Parlamento europeo abbia lo stesso peso del voto del Consiglio europeo. Due Camere legislative, come in Italia c'è Camera e Senato, a livello europeo ci sia il Consiglio europeo, cioè l'organo di rappresentanza dei governi, e il Parlamento europeo che è l'organo di rappresentanza dei cittadini, con pari dignità, non come oggi, dove il ruolo del Parlamento europeo viene solo su alcune materie considerato di pari dignità, pensiamo al bilancio. Allora, le forze politiche e i candidati al Parlamento europeo nel 2024 si esprimano su questo punto. Sono d'accordo a potenziare la potestà legislativa del Parlamento europeo? Per me questo è dirimento. E la Commissione, soprattutto sotto l'egida della von der Leyen, con i suoi sei pilasteri, ha segnato molto la vita dei cittadini europei. Cosa dovrà fare? Chi verrà dopo? Ci sono sfide incredibili da affrontare, di questo bisognerà parlare nella campagna elettorale, non dal chiacchiericcio che stiamo ascoltando, lo dico a tutti ovviamente. Ne parliamo nel documento di cui abbiamo fatto cenno, in questo documento che abbiamo fatto con The Watcher Post e For Me, che si è avvalso dal contributo di eccellenti esperti europei. Parliamo della sfida migratoria, per esempio, che non è risolta e non si capisce come un tema che non riguarda l'Italia, ma che riguarda l'Europa, non debba essere risolto a livello europeo. Primo tema, il tema del Green Deal. Deve essere un Green Deal aggressivo, deve essere un Green Deal coerente, ma sostenibile per il sistema imprenditoriale europeo. Terza questione, la questione di stimoli alla crescita. Non dimentichiamo che siamo in una fase di recessione, indotta anche dalla guerra, dagli effetti della guerra. C'è una recessione che vive la Germania. La Germania non è un piccolo paesino così. La Germania è un grande paese, una grande nazione, verso la quale noi esportiamo, anche come Italia. Attenzione a sottovalutare questi aspetti. Noi siamo in una fase di recessione e c'è bisogno di stimoli all'economia. Dobbiamo affrontare il tema della piena attuazione dei fondi comunitari, programmazione 21-27, siamo al 23. E questa è una programmazione che sarebbe dovuta partire il 2021. E dobbiamo attuare compiutamente il PNRR e il Next Generation EU, tutte sfide da campagna elettorale, così come sfida da campagna elettorale. E vogliamo fare le riforme del Parlamento europeo, ma anche della Presidenza della Commissione europea. Vogliamo decidere che, non questa volta perché non è possibile, ma la prossima volta ci sia il nome del candidato Presidente della Commissione europea che noi cittadini liberamente possiamo votare per dire io voglio la von der Leyen, tu vuoi Scholz, l'altro vuole Verostat, l'altro ancora vorrà la Meroni, l'altro ancora vorrà chi sa chi, ma lo votiamo, io cittadino liberamente, autonomamente, eleggo, scelgo, contribuisco a scegliere e eleggere il Presidente della Commissione europea, il Presidente dell'Europa. Ecco, queste sono le grandi questioni di cui bisognerà parlare in campagna elettorale. Veniamo appunto alla campagna elettorale e un po' a qualche previsione. Stando agli ultimi sondaggi si direbbe che sarà un po' difficile nella prossima legislatura europea avere una maggioranza con solo socialisti, popolari e liberali. Quali maggioranze sono possibili? Credo che non sarà possibile una maggioranza tra popolari e conservatori, questo è molto probabile che non avvenga. Quindi le forze europeiste devono unirsi, a partire da popolari, liberal-democratici e socialisti. Io dico i verdi possono far parte di una maggioranza di questo tipo, ma anche i conservatori, se fanno il passo verso un europeismo più spinto. E questo è il banco di prova anche della Meloni, io credo. La Meloni è a un bivio. Ha mostrato grande capacità nell'intrattenere rapporti istituzionali con le istituzioni e le autorità europee. Grande abilità, grande intelligenza. E tuttavia i nodi che vanno sciolti, non si può rimanere nella palude. Il guado va attraversato. I rapporti con il Partito di Giustizia e Libertà dell'Ungheria, della Polonia, chiedo scusa, i rapporti con gli ungheresi, i rapporti con l'FD in Germania, sono rapporti che vanno sciolti. Dopodiché, perché no? Se si abbandona l'idea che l'Europa va abbattuta, perché è un male anziché un bene, e che va invece fatto fare all'Europa un'accelerazione in termini politici, e perché non dobbiamo accettare, e non si debba accettare una grande coalizione? Perché di una grande coalizione c'è bisogno per affrontare le grandi sfide che avrà l'Unione Europea, anche la sfida dell'intelligenza artificiale. Può sembrare così una battuta, ma l'intelligenza artificiale va governata, altrimenti fra poco, fra qualche anno, noi ci ritroveremo come i robot, noi uomini, noi persone, comandati da robot che si sostituiscono alle persone. Attenzione, ci vuole una regolamentazione democratica. Veniamo appunto all'Italia, come le forze politiche italiane si stanno preparando a questo appuntamento elettorale, chiaramente stando agli equilibri che possiamo valutare fino ad oggi, e dobbiamo ancora entrare nel vivo della campagna elettorale. In Italia si sta parlando di abbassamento del quorum al 3%, il centrodestra a trazione Meloni, c'è la nascita di un grande contenitore di centro, il campo largo, come possiamo valutare questi movimenti che si stanno registrando nel nostro paese? Io sto intervenendo in questa intervista in qualità di estensore o coordinatore di questo gruppo che ha preparato questo documento, non in qualità, diciamo, di parte politica, quindi do un giudizio il più possibile obiettivo. E devo dire che ancora manca il contenuto. Cioè si parla di contenitori, ma che significa il centro, la destra, la sinistra, se non ci sono i contenuti? Sembra che ci sia una corsa a mettere insieme sigle. Beh, tu puoi mettere insieme tutte le sigle che vuoi, ma devi dire che cosa vuoi fare nel Parlamento europeo. Ti candidano al Parlamento europeo, si candidano al Parlamento europeo, non mi riferisco a nessuna persona in particolare, ma finora io ho sentito e ho letto i nomi di sigle e di persone, ma non ho letto uno straccio di programma. È un anno che manca alle elezioni e credo che è l'ora che si mettono su e si mettano sul tappeto le idee per l'Europa e su quelle che devono votare i cittadini italiani, non su quello che avviene nel cortile italiano. mettiamoci alle spalle questa brutta abitudine che andiamo a votare alle europee o perché ci sono gli acchiappavoti, mettono i cantanti, mettono i nomi famosi, che poi non ci vengono, non ci vanno a Bruxelles. Io posso essere testimone, 19 anni di testimonianza diretta e costante, non ci vanno a votare e a scrivere gli avendamenti a Bruxelles costoro, oppure si fanno la sommatoria di sigle, senza parlare dei temi europei. Invece io chiedo, e noi chiediamo come documento, che si affronti il dibattito sui temi europei. Questo è quello che interessa ai cittadini, alle imprese, ai sindacati, agli stakeholders d'Europa, che ci si occupi e ci diano le proprie posizioni, i propri punti di vista e su quei punti di vista si maturerà il giudizio degli elettori. Per chiudere, più volte Gianni Pittella, sui suoi articoli sulle colonne di The Watcher Post, ha invocato in vari modi una maggiore integrazione europea. e in vista anche dell'uscita di questo pamphlet, volendo lanciare un messaggio, che poi immagino sia anche un messaggio che si potrà evincere dalla lettura di questo documento, come si può conseguire nei prossimi anni questo maggiore livello di integrazione europea tra gli Stati membri e tra le popolazioni degli Stati membri? Rafforzando le politiche europee sulle grandi questioni, dalle migrazioni alla questione sociale, si è fatto un pilastro sociale, a Bruxelles siamo stati bravi a fare dei nomi altisonanti, il pilastro sociale, ma se nel pilastro non ci metti le politiche sociali, non ci metti i soldini, diventa un pilastro di carta pesta. Il Green Deal, ma il Green Deal ha bisogno di risorse finanziarie anche per chi si deve riconvertire, lo deve aiutare nella riconversione, serve un fondo sovrano per aiutare le imprese europee. e poi ci vogliono le riforme politiche, ruolo paritario del Parlamento europeo, elezione diretta del Presidente della Commissione europea, banca centrale prestatrice di ultima istanza e la bussola strategica sulla difesa, dove la mettiamo? Ci vuole un programma comune sulla difesa e poi c'è l'ultimo tema, l'allargamento. In questo momento sento, ascolto i commissari competenti hanno parlato di allargamento, sono d'accordo, bisogna fare l'allargamento all'Ucraina, bisogna fare l'allargamento ai Balcani, altrimenti li regaliamo alla Russia, ma se puoi fare l'allargamento devi fare anche l'approfondimento, cioè dove devi dare all'Unione europea delle regole più forti di decisione, perché se oggi già a 27 tu non riesci a decidere bene, come fare a decidere a 30, 31, 32, quindi devi fare delle decisioni rapide, quindi eliminare la regola dell'unanimità. In nessun contesto, in nessuna materia deve valere la regola dell'unanimità, si decide a maggioranza, come in qualsiasi associazione, istituzione, formazione democratica. E poi bisogna assolutamente dare la possibilità ad alcuni paesi che condividono delle politiche di farlo a prescindere che siano tutti d'accordo. Cioè, se su una politica di difesa comune sono d'accordo 10 paesi europei e non 27, quei 10 facciano la politica di difesa comune, vadano avanti, come oggi c'è l'euro che non è condiviso da tutti i paesi europei come oggi c'è Schengen che non è condiviso da tutti i paesi europei e ci sia la politica estera o la politica di difesa o altro se non c'è l'accordo di tutti lo sia per i paesi che vorranno convergere. Bene, noi ringraziamo per la disponibilità, per la cortesia e rimandiamo l'approfondimento di questi argomenti alla lettura del panflet. diamo appuntamento ai prossimi tempi per l'approfondimento magari dei prossimi argomenti oggetto dei successivi documenti. Grazie mille. Grazie a voi.